Caro collega, il corso di perfezionamento in Disability and Diversity Management rappresenta un'alta formazione di grande impatto. Raccoglie infatti il mondo della ricerca con il Business Laboratory dove negli ultimi anni abbiamo svolto tante attività con la partnership degli specialist addirittura di cento università di tutto il mondo. Abbiamo poi l'associazione italiana direttori del personale come partner con IDP Lazio. Abbiamo il mondo delle associazioni con Abilitando, leader italiano nel settore del disability e inoltre sussiste anche la partnership di Springboard Consulting, l'azienda leader internazionale nel settore disability con ramificazione in Nord America, in Asia e in Europa e caso studio dell'Università di Harvard. Il progetto mira proprio ad avere una panoramica ad ampio spettro sul tema del diversity che viene visto come sia un fattore di business ma anche come un fattore di benessere e di health e inoltre vuole dare un occhio di riguardo al tema del disability. Il perché è molto semplice, i dati della World Health Organization parlano molto chiaro, una persona su sette potrà incontrare nel corso della vita in periodo di disability e pertanto c'è un'urgenza non solo scientifica ma anche sociale. Tutti in fondo noi abbiamo dei limiti ma abbiamo anche delle grandi potenzialità. ti aspettiamo!